eccoci qui a commentare i match della scorsa giornata della 6 gennaio cominciando dalla ligana nantren la teniamo più tardi cominciamo con strasburg nim con lo strasburg che di fatto è andato in vantaggio con ayork e poi subito il raddoppio di diaio quindi in questo caso il cash out viene effettuato dopo il gol di diaio perché aspetto sempre dei minuti due minuti solitamente per l'acquietarsi delle quote prima di effettuare il cash out talvolta può essere pericoloso come in betis sevilla magari andrò a rivedere questa regola per quanto riguarda il secondo tempo e in questo caso invece aspettando due minuti è arrivato il raddoppio di diaio e poi molto banalmente semplicemente si effettua il cash out tutti a casa senza grossi patemi d'animo scorriamo la grafica andiamo a vedere invece lazio fiorentina in questo caso ancora più semplice o meglio ancora più veloce la pratica perché caicedo segna al sesto minuto e dopo otto minuti avevamo il nostro cash out senza saper né leggere né scrivere non particolarmente complicato anche il match tra milana juventus con l'avvantaggio di chiesa sull'assistenza di di bara al diciottesimo minuto e al tantiottesimo si effettua il cash out e l'avevo detto l'altra volta nel video che vedevo il milano a prescindere dall'assenza c'erano sette per il milan a tre per la juventus ma a prescindere dall'assenza vedevo un milano non particolarmente livelli di inizio stagione ma anche normale che sia così il milan veniva da risultati 27 mi sembra risultati utili consecutivi e soprattutto segnava due reti da una una marea di tempo da tantissime partite il milan segnava almeno due reti e in questa circostanza invece ha segnato una sola rete il gol del pareggio di calabria per poi soccombere nella ripresa con la juventus la juventus tra le altre cose aveva tre assenze una importante quella di alexandro perché perché alexandro riesce a smistare molto lavoro a cristiano ronaldo ponendolo nella condizione ideale dei suoi uno contro uno quindi della situazione che cristiano ronaldo predilige non tanto per saltare l'uomo ma quantomeno per crearsi lo spazio utile necessario per le sue giocate per i suoi tiri per le sue incursioni e quindi quando abbiamo un giocatore come alexandro nella juventus cristiano ronaldo riesce a giocare meglio il problema invece della prestazione piuttosto atipica no ma la sottotono di cristiano ronaldo era dettata anche dalla oltre che dall'assenza di cristiano di alexandro dalla presenza di federico chiesa federico chiesa ruba parecchio spazio e zona del campo a cr7 e quindi spesso volentieri successo sì con l'udinese che segnassero entrambi che fondamentalmente andassero entrambi in rete ma vedremo nel corso della stagione che quando segna chiesa difficilmente poi cristiano ronaldo avrà una prestazione eccezionale un po come successo a san siro contro il milan perché di fatto chiesa ruba spazio a cr7 specialmente in assenza di alexandro che non mette nella migliore condizione cr7 di volgere le sue mansioni al meglio quindi staremo a vedere se pirlo troverà un equilibrio anche da questo punto di vista perché era già successo con l'atalanta risuccede oggi con la milan una situazione di questo genere con l'udinese era una partita più semplice sulla carta staremo a vedere se pirlo riuscirà a porre una sorta di rimedio da questo punto di vista scorrendo in basso dopo ovviamente parleremo di sampdoria inter e di ren nant che sono due partite per certi versi con modalità simili l'una molto positiva l'altra molto negativa andremo a parlarne tra pochissimo prima però andiamo anche a vedere la situazione in super league la massimo campionato turco che vede in testa il basic tas che ha strapazzato la rizzespor 6 a 0 la scorsa giornata la 6 gennaio alla vodafone arena con quattro reti della canadese claren eccolo qui la match in questo caso segnalare la diciannovesimo minuto dopo due tre minuti si effettua la cash out per una classifica decisamente interessante di super league per il basic tas in testa con 34 punti 32 il fenerbace 30 il galatasaray con 16 partite entrambe pardon tutte e tre le formazioni ed è uno scontro decisamente molto interessante quello che vede in questo momento la super league con il ritorno delle squadre importanti storiche tradizionali della super league con tutto rispetto per quello che è successo negli ultimi anni però vedere uno scontro tra besiktas fenerbace galatasaray è davvero tanta tanta roba quindi se si profilerà una super league di questo genere di questo tipo sarà veramente veramente molto molto interessante seguirla fino alla fine veniamo quindi alle due partite più interessanti da un punto di vista prettamente della datching ossia non tren in questo caso che cosa è successo ho impostato la datching sulla ren la partita non ha visto particolari emozioni come possiamo vedere dalle statistiche in grafica due tiri in porta da parte del nant zero per il ren quindi sul finale avevo due opzioni l'opzione tra l'altro come potete vedere il possesso palla 72 per cento e nessun tiro in porta per il ren una cosa veramente abbastanza atipica anche se fino a un certo punto perché ieri nella sfida tra la braga e il marittimo più o meno era successa la stessa cosa con la braga che aveva fatto sette tiri nessuno nello specchio della porta all'ottavo tiro in porta all'ottavo tiro complessivo è arrivato il primo tiro in porta ed è arrivato il gol di medeiros tornando comunque a nant ren 0 a 0 in questo caso nel caso specifico tra nant ren avrei potuto chiudere la prima copertura che di fatto era ancora in atto alla totale copertura dell'esito finale quindi dell'esposizione sull'esito finale e poi lasciar correre l'esito finale con la speranza ma una speranza a quel punto che poteva essere tranquillamente agiata semplice comoda perché perché comunque si avevo azzerato totalmente il rischio quindi qualora avessi fatto una cosa di questo genere chiusura della prima copertura alla totale esposizione del mercato esito finale quindi nel caso specifico chiusura più 300 euro sulla copertura under mezzo gol mi sembra che fosse tornante ren a quel punto ho coperto tutta l'esposizione sul mercato esito finale se avesse segnato il rain in una circostanza del genere avrei guadagnato più o meno 5 600 euro su entrambi i o meglio complessivamente valutando su tutti e due i mercati 5 600 euro quindi si possono guadagnare anche 5 600 euro nel caso specifico però perché non sono arrivato ad una situazione di questo genere di questo tipo perché il ren fondamentalmente ha creato zero non ha creato nulla nel tempo stesso il nant non dava assolutamente nessuna idea di poter segnare di poter impensierire il ren stesso quindi abbiamo avuto una partita piuttosto scialba piuttosto chiusa con ritmi lenti non di grande individualità insomma una partita per tanti versi noiosa e questo è quello che è successo quindi ho preferito portarmi a casa comunque sia un buon profitto e non andare andando a fare una gestione di questo genere che invece sarebbe stata fantastica ottimale tra roma e samdoria come avevo spiegato le volte scorse e poi il gol adigeco è arrivato prima di questo tipo di operatività che avevo in mente su roma samdoria perché in quel caso era ottimale perché la roma stava attaccando bene aveva corso qualche rischio per carità ma veramente molto molto timido mentre era una roma veramente in controllo del match nonostante un campo non particolarmente perfetto e quindi che sciare la prima copertura e lasciare correre l'esito finale lì aveva un grande senso in nantren non aveva veramente ben che minimo senso come abbiamo visto dalle statistiche fondamentalmente una partita con tanti ammoniti da una parte dall'altra ma anche gli ammoniti se voi guardate bene alla fine sono gli ammoniti a centrocampo per il ren c'è stato solo tra ore per la difensiva del nant se no culibali ma culibali è una punta centrale fondamentalmente anche gli ammoniti lasciavano lasciavano poco poco da dire non erano degli ammoniti che potevano poi indebolire una squadra piuttosto che l'altra molto bene in zonzi invece che sta facendo veramente una bella stagione con la maglia del ren questo per quanto riguarda nantren veniamo ora alla partita dove l'ho fatto vedere ho perso 300 euro sono tanti sono pochi è una perdita nei limiti di quello che posso perdere quindi non è né tanto né poco è una perdita media ma nel datching per come lo faccio vedere per come l'ho imposto io posso arrivare anche per singola partita con il rischio che ho adottato da un po di tempo a questa parte posso arrivare a perdere anche 5 600 euro in una partita così come posso arrivare a guadagnarne 5 600 euro in una partita come ho fatto un esempio potenziale tra nant e ren tra roma e sampdoria ma ne vedremo anche di pubblici evidentemente quando capiteranno non capita spesso di perdere 300 euro questo è evidente però può succedere quando succede quando la partita comincia ad avere delle dinamiche differente rispetto a quelle che mi aspettavo per 15 20 minuti c'è stata l'inter che mi aspettavo per file per segno non ha segnato il rigore ha creato delle occasioni importanti voleva vincere la partita sembrava in controllo del match e dopo quel rigore di fatto qualcosa è cambiato è arrivato il rigore per la sandori è arrivato il raddoppio di keita in una partita comunque sia dove l'inter non è rimasta a guardare non è stata un inter scialba ma è stata un inter imprecisa davanti con un ottimo udero ma con un lucaco in meno incapace di poter raddrizzare una partita di questo genere i tiri in porta sono stati ben 10 durante il primo tempo ma la partita aveva assunto una dinamica troppo differente rispetto a quella che avevo previsto che avevo programmato e quindi a mio modo di vedere è stato un bene chiuderla senza arrivare ad altre coperture quindi ho fatto la prima copertura ovviamente in pre match ho fatto la copertura sull'1 a 0 e poi mi sono fermato perché ho capito che questa partita poteva finire in qualunque modo e potevano esserci veramente tanti gol questo perché perché già nel primo tempo avevamo avuto 10 tiri in porta con due reti come possiamo vedere dalla grafica due reti tre ammoniti per l'inter quindi la partita ripeto aveva assunto dei connotati delle dinamiche decisamente differenti rispetto a quello che avevo previsto e quando succede questo è inutile almeno secondo il mio modo di operare inutile forzare la mano perché era una partita che poteva finire 3 a 1 3 a 2 2 a 2 2 a 3 3 a 3 cioè poteva veramente finire in qualunque modo in qualunque maniera e quindi ho preferito salvare salvare la posta in palio nel senso ho perso sì 300 euro ma è una perdita assolutamente nei confini del mio datching facendo vedere tutto ovviamente faccio vedere anche quando possono capitare delle partite particolarmente negative quindi avrei potuto coprire ulteriormente questo sì ma ripeto per la dinamica che stava assumendo la partita ho preferito chiudere con una perdita di 300 euro che come abbiamo potuto vedere è stata ampiamente recuperata nel corso della giornata ma nel tempo stesso ci sono partite dove potremmo guadagnare anche molto di più rispetto ai canonici mario 80 100 120 euro che avevo detto precedentemente che avevo detto qualche istante fa quindi nessuna paura nessun timore succedono capitano queste partite sto facendo vedere tutto anche perché poi mi piace che le persone che arrivano a me hanno la piena consapevolezza di quello che possono fare con questo metodo non vendo illusioni ma un sistema un metodo serio collaudato oliato dove anche con piccoli conti si possono fare ottime cose si possono avere ottimi guadagni oltre questo a livello pratico per le persone che mi contattano in ogni caso le persone che mi contattano nel corso del tempo vedranno per filo e per segno che potranno andare su una varietà di eventi veramente notevole ma se vogliono tenersi più accorti più attenti più sicuri più in una zona di comfort migliore ci sarà comunque sia un piano ben collaudato di datching dove non dico a colpo sicuro ma si andranno a prendere in considerazione match partite eventi e momenti della stagione dove avremo un'affidabilità veramente notevole e quindi ci sarà anche diciamo una sorta di tranquillità migliore nella operatività stessa ma le stesse persone poi fondamentalmente me lo testimoniano che quando raggiungono una certa tranquillità e serenità quando capiscono questo metodo e quando vedono che effettivamente anche una perdita importante come magari c'è stata in Sampdoria Inter può essere tranquillamente serenamente recuperata anche solo in un unico match e ci sono dei match dove si può guadagnare anche su due mercati capiscono fondamentalmente che il loro raggio d'azione è molto più elevato rispetto alla zona di comfort e vanno a prendere in considerazione molti più match altri invece rimangono su una situazione di comfort di tranquillità quello che è certo è quello che è bello nella datching poi insegno anche altre metodologie altri modi di vedere la partita interpretare la partita alle fasce della classifica gli over come sfruttare al meglio gli underdog insomma una serie di cose veramente molto interessante ma la cosa bella nel datching è che sei lì sul pezzo sulla partita e che i guadagni sono guadagni reali guadagni che si vedono poi di volta in volta partita dopo partita nel corso del tempo stessi